Disimballaggio e configurazione delle stampanti in multifunzioni HP LaserJet serie M139-M142 e M139 e M142e. Aprire la confezione e rimuovere il cavo di alimentazione e la guida di riferimento. Estrarre la stampante dalla confezione. Rimuovere i tappi terminali protettivi e il sacchetto di plastica. Rimuovere la guida alla configurazione e tutto il nastro dalle superfici esterne della stampante. Aprire lo sportello di accesso al toner, quindi rimuovere il nastro e la gomma piuma di imballaggio dall'interno della stampante. Rimuovere la cartuccia, quindi rimuovere le guide arancioni dalla cartuccia. Attenzione! Non toccare la superficie del tamburo fotosensibile. Le impronte digitali o altri contaminanti presenti su questa superficie possono causare problemi di qualità di stampa. Quindi, mentre si afferra la cartuccia dai lati, scuotere la cartuccia da un lato all'altro cinque o sei volte per distribuire uniformemente il toner. Piegare la linguetta arancione finché non scatta in posizione. Quindi tirare per rimuovere la pellicola protettiva dalla cartuccia. Allineare la cartuccia ai binari e all'interno della stampante. Assicurarsi di spingerla fino a quando non è saldamente in posizione, quindi chiudere lo sportello di accesso al toner. Abbassare il vassoio di alimentazione della carta ed estendere le guide della lunghezza della carta. Caricare carta comune bianca nel vassoio di alimentazione, con il lato corto nella parte anteriore e il lato di stampa rivolto verso l'alto. Fare scorrere le guide della lunghezza della carta verso l'interno fino a toccare i bordi della risma ed estrarre l'estensione del vassoio di uscita. Collegare il cavo di alimentazione al retro della stampante. Quindi inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa a muro. Nota non collegare il cavo USB in questo momento. Premere il pulsante di accensione per accendere la stampante. La guida alla configurazione contiene il codice QR per scaricare HP Smart sul dispositivo mobile e le informazioni del supporto HP. Sul computer o dispositivo mobile, visitare il sito 123.hp.com per scaricare il software HP Smart. O per gli utenti di Windows 7, il software HP Easy Start. Per utilizzare la stampante è necessario HP Smart. Aprire il software e seguire le istruzioni passo passo per connettere la stampante a una rete wireless. Creare un account HP e, se la stampante è un modello della serie E, completare la registrazione HP+. Infine seguire la procedura rimanente per completare la configurazione della stampante. Ora è pronta per stampare. Fare clic sulla scheda Playlist in YouTube per trovare i video di HP in altre lingue. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP. Grazie a tutti.